Sì, sicuramente siamo contenti di essere partite così, ancora è soltanto l'inizio, quindi dobbiamo pensare soltanto alla prossima partita. La prima è andata, a testa alla prossima, speriamo di continuare in questa direzione. Niente compromesso, ma sicuramente l'emozione era tanta, perché come lei era l'esordio per noi. Noi siamo arrivati qui con nessun obiettivo, solo quello di far bene, di giocarci ovviamente fino alla fine, mi spiace perché comunque eravamo in partita, però qui a livello fisico non ce l'abbiamo più fatta, però siamo contenti comunque della prestazione.